La diamo in maniera di vita. Ci serve un nuovo sticker. Crep che fa grrrr. Crep che belli i nuovi guanti. Quindi niente vestiti. Quindi niente vestiti. Hai la mano sudata. Io ti voglio bene. Che scherzo! Quindi niente vestiti. Quindi niente vestiti. Pioggia la faccia. Quindi niente vestiti. No, questa era più emozionale. Meno emozione. Quindi niente vestiti. Quindi niente vestiti. Quindi niente vestiti. No, no, questo è proprio qualcosa di tipo... Se ne vuole. Tipo... O so che è un porno. La vita è un porno. Più tipo indagatore. Più indagatore meno sonoro. Bene, allora mentre Crep ripara i danni io vado a caccia. Bene, allora mentre Crep ripara i danni io vado a caccia. Bene, allora mentre Crep ripara i danni io vado a caccia. Bene, allora mentre Crep ripara i danni io vado a caccia. Non potevi scegliere Un nome più facile Antonio Pier Gianluigi Pier Gianluigi è più facile di Krab Sì Non ti fa impappinare Bene Allora mentre Krab ripare danni io vado a caccia Bene Allora mentre Krab ripare danni io vado a caccia Ho fatto un suono con la bocca strano Bene Allora mentre Krab ripare danni io vado a caccia Bene Allora mentre Krab ripare danni io vado a caccia Troppo accicciate le parole Bene Allora mentre Krab ripare No quello è tipo il bene va diverso il bene 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 Allora mentre Krab ripare Il bene lo fai troppo alto e poi sfumi troppo E sto cercando Cosa? La tua dignità Ha ragione però Bene Allora mentre Krab ripare Bene Allora mentre Krab ripare danni io vado a caccia Bene Bene Allora mentre Krab ripare danni io vado a caccia Bene Allora mentre Krab ripare danni io vado a caccia E tipo se il medico bene Data questa cosa qui si può bene lo fare come Non dare questo effetto Bene Allora mentre Bene non mi è piaciuto Bene No Bene 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 Allora mentre Krab ripare danni io vado a caccia Uno a uno ce ne sarà Da quando l'uomo ha smesso di cavalcare i mammut Da quando l'uomo ha smesso di cavalcare i mammut Da quando l'uomo ha smesso di cavalcare i mammut Ha smesso di cavalcare i mammut Perché tu lo fai interrogativo Non è interrogativo Tu è sì No non è interrogativo Allora adesso piccola domanda a voi spettatori Telespettatori Quello che ha fatto lui era interrogativo Metto sotto le strisce del milionario con la musica Quattro alternative Anzi No Forse E' trampi Da quando l'uomo ha smesso di cavalcare i mammut Da quando l'uomo ha smesso di cavalcare i mammut Da quando l'uomo ha smesso di cavalcare i mammut In tutta questa Io ti ammazzo Sei sexy Allora Prima di riaggiustarmi i capelli Non fare più Fai Quelle Yuhuu Mario Yuhuu Yuhuu E' bellissimo fare questa cosa qui E' un bambino che si indirizza Si Yuhuu Yuhuu E ragazzi Dopo due episodi E' ritorno a te O quel No era un Avete capito Adriano Fai pinta di spingerti davanti 3 2 1 Il cavolo 3 2 1 A costo di spaccare una cosa Che l'ho fatto? 3 2 1 3 2 1 3 3 2 1 3 2 1 Yeee 1 2 3 4 5 6 7 7 7 9 10 10 11 11 11 12 12 12 12 13 13 14 14 14 15 20 15 16 20 21 21 21 22 Iega! Iega. Faccio prima crepe, come è usuale che sia. Anche a respirare, attenzione a respiro. Echu, hai dei gusti di anime di merda? Sì. Cioè, come fa a piacere gli shinge e i pinocchioji? Echu, è un tipo molto particolare. Non parlare! Ti avevo detto di non provare ad usare la lavatrice. Non parlare! Ti avevo detto di non provare ad usare la lavatrice. Non parlare! Ti avevo detto di non provare ad usare la lavatrice. Ah! Che è successo? Mi sono cambiato una tira, una maglietta, perché quella era piena di roba dietro. Ah, sì? La mia spalla chiede la metà. Ce l'ho pure quella verde. Hai distrutto tre lavatrici nell'ultimo mese! Svergognato! 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 Questa invece è tipo il... Con le maniche stanno così. Beh, di questo è il grrrr. Sì, quello è il grrrr, sarebbe il grrrr. Di Diamond Miner. Ah dai, io lo sto facendo! Comunque ragazzi, non per io, lui è una mensola del fantasy, niente male, con un libro fantasy, che per me è un bestseller, eh. È la Bibbia. Proprio, le lettere, con il sigillo del Papa, che il sigillo del Papa significa il sigillo rosso con la faccia del Papa. Così. Sì, così. La classica... Ma lo sai che mia nonna nella cucina ha la calamita quella rettangolare da frigorifero, con il Papa che fa così? Cioè, ha una meme e non lo sa. Ha una meme in cucina e non lo sa. Giustamente, al posto di cambiare le lampadine come fanno con i postali, le picchio. Allora... Ah, la schiena! Mi è venuta in coppia della strega, a maledetta luce. Mi ha lanciato una maledizione. Io ti ammazzo. No! No! Si è suicidato. Si è suicidato la cosa. No che sei sudato. Perché tu no? Eh, lo so. Guarda, il tuo sudore è rimasto addosso. Ok, centrifuga rapida, modalità ecologica, temperatura e ci siamo. Ok, centrifuga rapida, modalità ecologica, temperatura e ci siamo. Ok, centrifuga rapida, modalità ecologica, temperatura e ci siamo. Amo, so che sta digerendo. Stai fermo! Dai, gamba, vieni qua. No, che sei sudato! No, mi sei passato anche tu il suo. Cirito, nulla scomunico che si può conferire scomuniche da solo. Ma ormai il tuo va così. Allora, senti, ti ho tolto la scomunica. L'abbonamento scomunica tutta la vita!